Adesso cosa stai leggendo? Sto leggendo questo libro di Coelio. Ma vi mettete d'accordo su quali libri portate? Ma no, in generale ognuno legge quello che gli pare, poi ovviamente cominciamo a scambiarci, li facciamo le nostre riflessioni, il punto della situazione. Musica? Ah, musica sì, tantissima, ho un iPod con me, un po' tutti i generi, dipende poi da momenti, quelli pre-gara, quelli della sera quando si stanca, quelli del viaggio, quindi dipende anche dai momenti. Una base, una matita per le labbra, un po' di terra o di blush per avere un po' di colore e un ombretto con colori naturali, per me è il massimo, non c'è altro.